Hashtag noi amiamo gli animali. Il gatto esce quando piove, cause e rimedi. Il tempo è pessimo, lampi, tuoni e fulmini, eppure il nostro micio non riesce a resistere alla tentazione di uscire di casa. In questo nuovo video pensato per voi da noi di Amore a Quattrozzante, capiremo perché il gatto esce di casa quando fuori fa cattivo tempo. Di sicuro centrano il suo istinto e la sua natura, indice della sua personalità. Ogni padrone dovrebbe impegnarsi a capire quali sono gli aspetti più profondi del suo essere e capire le sue esigenze, come reagisce agli stimoli esterni, compresa la pioggia. È vero che non sempre i felini hanno un buon rapporto con l'acqua, ma in questo caso pare che il discorso sia diverso. In primis potrebbe sentire l'esigenza di espletare fuori i suoi bisognini, anzi la pioggia potrebbe solo stimolarlo. Quando piove il micio si sente più libero di esplorare il mondo e conquistare nuovi territori, dato che la pioggia elimina le marcature territoriali dei gatti che sono passati di lì precedentemente. Il suo istinto predatore lo spinge a cacciare anche sotto l'acqua, che elimina anche il cattivo odore del suo manto, acquisendo il vantaggio di non essere notato subito dalla vittima dell'aguato. Inoltre è possibile che micio si spinga fuori casa per semplice curiosità o alla ricerca di un rifugio che gli dia maggiore protezione. Una volta che lo abbiamo trovato, prendiamolo con dolcezza e riportiamolo a casa al sicuro, dandogli tutto il nostro affetto e supporto. Per questo video è proprio tutto, se volete saperne di più sul perché il gatto esce con la pioggia cliccate sul link dell'articolo corrispondente. Ma non solo, volete maggiori approfondimenti? Scopriteli sempre nel link che trovate qui sotto. E voi siete mai usciti a cercare micio sotto la pioggia? Fatecelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i video di amore a quattro zampe. Ciao ciao!